Punto 2012, da 9.500 euro con ESP e clima, GPL al prezzo del benzina. Parcheggiatore abusivo o violento, denunciato in stato di libertà. Scontro frontale tra due auto, gravi i conducenti. Elezioni amministrative, affluenza in calo. Salvezza, caro Fabrizio, pensaci tu. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. In apertura alla cronaca, due cittadini parcheggiano l'auto in via Oronzo IV e vengono avvicinati da un parcheggiatore abusivo alla sua richiesta di denaro. Loro rispondono negativamente e per questo vengono aggrediti. Lui è stato denunciato in stato di libertà. Sentiamo. Molto probabilmente doveva essere una tranquilla serata di passeggio, quella di ieri tipica della domenica leccese, veleggiante sul caos calmo che precede le elezioni comunali. E invece per due ragazzi una semplice uscita si è trasformata in aggressione subita. Protagonista principale, stando alle indicazioni fornite dalla polizia, un parcheggiatore abusivo, reo d'aver procurato alle vittime delle ferite evidenti. Il personale dell'ufficio volanti si è recato in via Oronzo IV appena dopo la segnalazione dell'episodio. Verso le 19, dopo aver parcheggiato l'autovettura proprio in via Oronzo IV, sono stati avvicinati da un giovane che, in maniera insistente, avanzava richiesta di qualche spicciolo. Considerato che due non si sono dimostrati disponibili ad accontentarlo, il reclamante iniziava a ingiurarli e dopo anche colpendogli alle spalle. Ne è scaturita una colluttazione e solo l'intervento dei familiari dell'aggredito ha permesso di dividere due fino all'arrivo delle volanti. In quel frangente anche l'altra persona, che aveva ricevuto la richiesta di denaro, si è presa un pugno sull'arcata sopraccigliare, lacerandola. Il personale sanitario giunto sul posto ha trasportato il ferito presso il nosocomio di copertino. L'aggressore, che comunque non si era allontanato, è stato identificato in un 31enne, deferito in stato di libertà per il reato di lesioni volontarie gravi. Proseguiamo con la cronaca. Un terribile incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 663, che da San Cataldo, superata all'oasi WWF Lecesina, all'altezza della Caja Golf Resort, porta a Otranto ad essere coinvolte due auto, una Passat e un Audi A3. Due conducenti e un passeggero sono rimasti feriti nello scontro. All'interno dell'Audi, anche una ragazza 24enne, che attualmente si trova presso il nosocomio di Galatina. L'impatto è stato terribile. Dai primi accertamenti si ipotizza che le auto siano andate l'una contro l'altra. Frontalmente, per cause ancora da verificare, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lecce e il personale del 118. Oggi alle 15 si chiuderanno le urne. Fino a questa mattina è stata registrata una diminuzione dell'affluenza al voto e a tal proposito abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni cittadini. Mirian Gabellone. Rispetto alle ultime amministrative, il Salento ha perso più del 6% di votanti. Il dato ha aggiornato alle ore 22 di ieri, ma c'è ancora tempo per esprimere la propria preferenza. Infatti, le urne sono aperte da questa mattina alle 7 fino alle ore 15. L'affluenza dunque in calo, segno che tra molti cittadini prevalga un sentimento di disaffezione alla politica di antipolitica. Ma vediamo come è andata a Lecce. Siete andati a votare? No. Perché? Perché siamo contro le elezioni. No, sto andando per la via. Sì? Sì, sono andata a votare. Certo, stamattina. Eh beh, sto andando a votare, è un dovere, no? C'è stato un calo di votanti, secondo lei da cosa dipenda? Che non hanno più fiducia alla politica. E l'insoddisfazione generale che c'è nei cittadini, perché vediamo che tante cose non vanno bene e che quindi tante persone prima che vengano lette dicono che risolvono le cose, invece non è così. Quindi questo ci porta a una insoddisfazione generale. Speriamo che questa volta sia la volta giusta, me lo auguro. Beh, perché qua gli amministratori un po' di meno, penso, però a livello nazionale c'è un disamore della politica. Cosa fare per chi ritorni in amora? Cercare di, innanzitutto, di tassare chi veramente sta bene e che può. Non ai soliti pensionati, ai dipendenti, che sono quelli che pagano tutte le tasse, mentre gli altri, ovviamente, hanno la capacità, la forbizia, non lo so. Secondo lei a Lecce chi la spunterà? Centro-destra. Quando le età estreme incontrano il tumore, questo è il titolo del convegno svoltosi a Lecce in mattinata presso le officine Cantelmo e che proseguirà anche domani diviso in sette sessioni e con quattro letture magistrali. Nei due giorni di attività, il Salento ospiterà esperti oncologi dell'adulto e dell'età pediatrica che operano in campo nazionale e internazionale e porteranno il loro contributo di esperienza e competenza. Ed ora c'è la pubblicità, rimanete con noi. Edil Costruzioni Quarta Edilizia di qualità Da sempre Numero verde 800 91 28 28 E concludiamo come sempre con lo sport. Anche quest'anno la salvezza del Lecce potrebbe passare da Fabrizio Niccoli La prossima partita del Lecce intanto sarà contro il Chievo con la speranza che il Genoa perda in casa contro il Palermo. Luigi Taurino Smaltiti delusione e scoramento per la sconfitta di sabato sera e dopo la conclusione della penultima giornata di campionato che ha consegnato lo scudetto nelle mani della Juventus dell'Eccese Antonio Conte quella più che minuscola fiammella che alimentava le speranze di salvezza dei Giallorossi al termine della vittoria dell'Udinese sul Genoa sembra improvvisamente essersi riaccesa. Non bisogna illudersi più di tanto ma la sconfitta del Grifone e la grandissima prestazione di Fabrizio Niccoli nella partita tra Palermo e Chievo ha restituito un po' di fiducia ai tifosi giallorossi. Domenica quindi il Romario del Salento ha nei suoi piedi i destini della squadra per la quale ha sempre fatto il tifo e nella quale spera di terminare la carriera. Ironia della sorte, questo talento di casa nostra l'anno scorso fu uno degli artefici della retrocessione della Sampdoria nella stagione in corso la storia sembra ripetersi sempre protagonista la squadra della città della Lanterna ma la sponda è quella rosso-blu del Genoa Fabrizio Niccoli, al termine della tripletta realizzata ieri ha assicurato che contro gli uomini dell'ex allenatore giallorosso Gigi De Canio anche se il Palermo non ha più nulla da chiedere giocherà per ottenere i tre punti e vista la sua leadership all'interno dello spogliatoio rosa-nero non c'è dubbio che anche i suoi compagni profonderanno il massimo impegno. Se i siciliani vincessero la salvezza non sarebbe più un sogno fermo restando sempre che Capitan Giacomazzi e compagni dovranno essere in grado di vincere contro il Chievo dell'ex Mimmo Di Carlo. Prima di concludere vi ricordiamo che questo pomeriggio dalle 15 in poi Lece News 24 seguirà le elezioni comunali in diretta su Facebook e ovviamente anche sul sito www.lecenews24.it Bene, per oggi è tutto grazie per essere stati con noi TG News 24 vi dà appuntamento a domani Arrivederci